Siamo in un corso, mi arrivò dicendo il sito C, il bel mezzo del Pre-Aero Design Week, con Massimo Giorno Merco, responsabile di marketing, che era Florian. Esatto. E a te, Massimo, vorrei chiedere qual è il racconto che Florian farà ai visitatori della situazione di realizzazione di design? Abbiamo avuto la fortuna di essere invitati, di copartecipare con Film & Coro, che sono due aziende nel settore dell'arredamento. Ombrelli è il settore dell'arredamento per esterni e anche per interi. E ci hanno proposto di venire qui a supportarli con il nostro palimento, con Family, che ha rivestito una sala interna, che dopo vi faremo vedere con delle fette. E la sala interna è qui di una vecchia biblioteca, perché è legata alla chiese gemelle, qui vicino. E il nostro racconto è che abbiamo rivestito questo pavimento per supportare e decorare i loro arredamenti. Grazie. Niente, grazie a voi.